Benvenuti nel canale Fabio Pecce se il video è di tuo gradimento faccelo sapere con un like. All'1.23 del 26 aprile 1986, una forte esplosione si verificò nel reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, provocando un incendio e un'enorme nube radioattiva. Le prime immagini mostrano che il reattore è completamente distrutto. Dopo i primi soccorsi, l'intera area circostante è stata evacuata e l'ambiente è stato contaminato dalle radiazioni. Il materiale radioattivo trasportato dalla nube si è depositato sulla superficie del suolo. Le piante e gli ortaggi sono stati i primi a essere colpiti. Le colture analizzate sono risultate contaminate anche a centinaia di chilometri dagli incendi. Il rilascio di vapore radioattivo non si è fermato fino al 10 maggio 1986. 336.000 persone furono costrette ad abbandonare le loro case, molte delle quali non vi faranno più ritorno. Igor Fedorovi Kostin è stato uno dei primi cinque fotografi al mondo a documentare l'incidente nucleare. Lavorava per l'agenzia di stampa Novosti di Kiev quando gli fu chiesto di coprire l'incidente. Stava sorvolando il luogo dell'incidente con un amico, un pilota di elicotteri, quando improvvisamente la sua macchina fotografica si è rotta. Quando tornò a Kiev, scoprì che la pellicola era coperta da un film opaco e i negativi erano quasi neri. Le forti radiazioni avevano distrutto quasi tutte le foto e sono rimaste solo poche immagini che immortalano la situazione pochi giorni dopo l'incidente.